Un'altra bella coppia interessante, Cinzia e Pino, a seguire Marco e Teresa, a seguire Jacopo e Giana, il nostro ziale Vettura con la pena, a seguire la coppia più bella del mondo, e mi prepara a volte anche le cose per te in casa, questa signora che è bravissima, Agostina Nuzia! La faccio a fumo? Chi è che lo faccio? Ah, è Cuglielmo, certo. Pronto, ma mi devo fare più? Questo corso lo faccio insieme a sé, due a sé, lo dobbiamo perché lo facciamo anche noi. No, però, io devo chiamare qualcosa, no, però, io devo chiamare qualcosa, perché io vorrei che qui spaccaste tutte. Cosa dici? Dai, bene, pronti, da soli, da soli, vieni un po' più vicino, vieni, sei, vieni qua, 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 vieni qua. Pronti? La facciata avanzata, eh? Allora, attenzione, aspetta che tu c'è un buco, vieni un pochino più avanti. Ok, ci hanno lavorato veramente tanto ragazzi, è venuto fuori bene, se non sono emozionato. 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 Un applausino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 Un applausino. Un rep式iamo da 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9 Y dicono che ciò non sibete in grande sia Hai, dai, 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 dai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giù. Grazie a tutti.